Senti meglio organizza insieme al Torino un grande evento sportivo che promuove il territorio ma anche sport e salute. Sì, infatti per me è stato motivo di soddisfazione essere qui presente all'evento inaugurale perché il progetto che portiamo avanti con i 18 comuni della community è quella di coniugare lo sport, benessere e salute. Qui ci saranno tantissimi ragazzi, giocatori di calcio che imparano a fare sport, a stare in squadra e sicuramente si porteranno dietro un'esperienza importante tutta la vita sperando che abbia veramente incidenza su quello che è il loro stile di vita futuro per prevenire rischi della salute.